Eeeh vabbè ragazzi non ci voglio cazzo credere guardate che cazzo è successo mi sono incastato E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Oggi grazie al nostro amico che ci ha portato finalmente a Badlands Siamo in un territorio nuovo che ci permetterà di livellare un po' più velocemente Perché appunto abbiamo delle quest nuove e più aggiornate per il nostro livello Perché questo territorio è dal 44 al 48 come potete vedere E noi siamo al 45 47 cazzo dico La tappa successiva sarà Burning Stips La tappa successiva ancora sarà Swamp of Sorrow forse Dipende se lì le roba stanzi in fretta E poi finalmente arriveremo a Blasted Lands che è il territorio perfetto Perché andremo alle Outland dopo di lì Quindi cominciamo subito a fare qualche quest random così che arriviamo subito a un livello decente Ovviamente non c'è bisogno che le istances già aggiunate Addirittura abbiamo già trovato un healer e due dps insieme a noi Buonissimo Questa Pantera del cazzo può anche togliersi grazie Là c'è un campetto dell'Alli quindi meglio che ci passiamo lontani Allora qua già abbiamo una quest In cui dobbiamo ammazzare tutto e tutti Perfetto molto semplice Questa che non verrà eseguita perché come potete vedere Gli ho già chiamato immediatamente per un instance Perfetto Allora instance nuova direi assolutamente sì E si chiama Zulfarrak Sì Zulfarrak Quindi mi raccomando ragazzi quando entrate in instance Vedete tutte le quest Perché sennò vi perdete un botto di instance Che immagino non volete Qui tic facciamo così Allora alcuni ragazzi mi hanno detto che il gettone è riutilizzabile Di conseguenza io me lo sparo Ma che cazzo è infinito? Vabbè Comunque adesso abbiamo questo 13% in più di esperienza Che cazzo insieme a Yerlum Yerlum se tutto Fa la sua sporca figura Che cazzo insieme a Yerlum Che cazzo insieme a Yerlum Allora qua mi ricordo che c'è un boss abbastanza figo Cioè Gazzrilla Una roba simile E mi ricordo che a sua volta Qui e in un'altra instance Si troppano due spade Che potenzialmente possono unirsi Ma io vi lascio le immagini qua Se le trovo Se mi ricordo il nome più che altro Mi ricordo che era molto ambita Per questa spada Che era praticamente il risultato dell'unione Di due piccole spade Perché veniva una spada viola Due mani Veramente figa E' veramente forte Perché infatti con il paladino Vecchio vecchio Che avevo in comune con il mio amico L'avevamo presa Infatti si vedeva molto la differenza Perché era una signora spada Cazzo Infatti eccolo là in mezzo Il nostro carissimo amico Che se non sbaglio Bisogna suonare questo gong Prima Ah no no L'hanno già suonato Ma nonna Quest'anno proprio A 2000 Il nostro caro Raghetto Si leva dai coglioni Non ha troppato ovviamente Quella spada Che vi dicevo Vabbè tanto con sto rug Non me ne fregava un cazzo Perché alla fine Non è che posso portare Una spada a due mani Ho visto che cazzo è Androboss Ecco perché ci metteva Così tanto a morire Mori boh Ah questo Anche quest'item Quindi molto importante Molto importante Androboss Androboss I look around And everything is empty And I break down I lost something That can't be found Eh vabbè ragazzi Non ci voglio cazzo credere Guardate che cazzo è successo Mi sono incastato Ma por Ma what What Ma ora speriamo che si sia Anche perché manco ci si avvicinano Oh ho fatto LOL Ma intanto questi buggetti random Su Warcraft ancora ci stanno Nonostante hanno Fixato tipo un miliardo di bug Dei territori Dei texture Che sapete quante volte Sono cascato Tipo di sotto a random Non so Non so Quando chargi col War Su qualche collina Capito A qualche mob che sta sopra A qualche nemico che sta sopra Sui seri privati Quando Mori Giovazzicava un po' di più Madonna Sempre succedeva Infatti Non potevi Dovevi sapercelo Che non potevi chargiare In quel punto Perché era un macello E questo mix di tizi È praticamente Quello che rappresenta L'ultimo boss Se non sbaglio Poi ce n'è uno Anche là dentro Però ne abbiamo saldato uno Più di uno in realtà Uh Retto Retto Importante Da molta exp L'offende Eh adesso Cioè io Gli offende Ma chi cazzo li usa più Gli offende No no dobbiamo farli tutti Perché qua c'è una quest Poi Comunque ammazzandoli tutti L'esperienza che uno riceve È molto superiore Ah questo è vero Uno zombie Se tutte pare Che voi Ci premete Se siete fortunati Succede questo Se non siete fortunati Se non siete fortunati Succede questo Ok Anche quest'altro Lo siamo dotati alle palle Tra l'altro Stiamo per livellare Quindi perfetto Mi è arrivato un invito Che non so da chi Ah andando accetto le richieste Ah damila 27 Eh troppo basso Amico mio sei Se ritorno al 48 50 così Avremmo giocato volentieri insieme C'è crema Come sto tizio No Questo è un altro boss Che è praticamente il boss Come se fossi scarafaggi Perché qui prima Un attimo Vedete vedere Sono scarafaggi di merda ovunque E eccolo Il level up 48 Oh abbiamo preso il vanish Che figata Bellissimo Vanish Molto molto importante Una spella essenziale Per il rogue Specialmente in bvp Proprio specialmente Che voi fate semplicemente così E mi va il stealth Quando siete in combat E soprattutto Per i primi 3 secondi Non Non vi si rompe lo stealth A causa dei danni Quindi Magari voi state per morire Con noi dot addosso Vi sparate il vanish Vi sparate una cura Un qualcosa Tipo questa qua E vi salvate le chiappe Infatti I rogue adesso hanno preso Un sacco di sustainers A questa cosa Specialmente che possono curarsi Tanto da soli Allora rettifico L'odio boss E questo qua E voilà Anche questo Eccola la spada Che vi dicevo Questa qui Matti vedi Scritto combine Un'altra E sul trust Sul trust The lusher Si chiamava Una roba simile E la madonna State un attimo calmi Tipo Che vi spacco La faccia Tutti quanti Tutti in fila Ragazzi Tutti in fila Bravi Sapete qual è però La notizia brutta E che sto al 48 E le quest al 48 Inizieranno a essere Basse Dopo tutto sto casino Che ho fatto Per arrivare fino a qui Porca troia Vabbè Qui fino al 49 Posso rimanerci Allora Finiamo al volo questa Ammazziamo gli ultimi due Allora Tu là Veni da me Veloce E questa l'abbiamo fatta Poi ipotizzo Che bisogna andare Là dentro E infatti Bisogna raccogliere Tutte queste cosette Qui Allora Una parte L'abbiamo fatta Di quest Cioè quella di prendere Quelle carni Attaccate Sul soffitto Adesso dobbiamo raccogliere Non so cosa Delle chest Contenenti Non so A questo punto Penso a pezzi E le persone Perché Ha giudicato Quanto sono delicati I yogurt Insomma Però ce ne manca Già solo una Che sarà questa Tic Perfetto Adesso torniamo indietro Andiamo a consegnare No Non ce credo Mi ha stonnato Sto coglione Brutto pezzo Di merda No 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 Adesso questo muore Adesso questo muore Come Che bello Il world pvp Vediamo se ci riusciamo Va Però Già sempre lo scudo Il bastardo Questa roba Porca puttana Mi caga in testa No Bastardo E vabbè Ho sempre ingaggiato Con tipo Il 40% HP quindi Se fossi stato Full vita L'avrei L'avrei seccato Sicuramente Vabbè Facciamo che lasciamo perdere Andiamo a consegnare Va Anche perché Non lo vedo più Allora Una intanto L'abbiamo qua Ovviamente Loot Sempre totalmente Inutili E quell'altra Sta qua Ma lo consegniamo E poi vediamo Dove ci mandano Allora Quest'episodio ragazzi Visto che l'istans L'abbiamo già fatto Adesso continuo Con un po' di quest Voglio arrivare al 49 Dai Facciamo queste due quest qua Poi Anzi Facciamo uno Due Tre E poi le consegniamo Sulla stesso punto Ipotizzo Quanto rompono il cazzo I mob che ti rallentano E ti fanno scendere Dalla mount Dio Cristo Gesù La roba che veramente Me manna armani comio Allora Dobbiamo ammazzare La bellezza Di 15 dark iron Cazzi Qui Che tra l'altro Saranno una delle classi nuove Dell'espansione Però cominciamo con Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Tredici Quattordici E quindici Adesso fondamentalmente Devo capire Che cazzo devo fare Oh Ecco cosa devo fare Devo ammazzare Tutta questa gentaglia Qui compreso Il golem Di fire L'ambassador infernus Tra l'altro È un boss Di Black rock cavern No Non lo so Comunque Il boss Di un Di un instance Me lo ricordo perfettamente Comunque Questa è stata fatta Perfetto Adesso usciamo Da questa merda E andiamo Rapidi E scattanti Fino a qua E infatti Queste quest Non vanno riconsegnate Dove eravamo prima Ma qua in mezzo Perché prima Quando sono passato Sullo scorso video Con il mio carissimo amico Ho preso le quest Un po' su tutto Perché mi ha fatto Prendere il volo Su ogni parte Quindi Questa è alle Quindi ce le diamo Dai coglioni subito Perché sennò Agro faccio un casino Anzi ci passiamo I stilt Perché sennò Non voglio crepare Però un zappino Io lo sparo Eh Posto Oh Allora Dobbiamo ammazzare Questi qua E ve lo farò naturalmente Con il mio solito E adesso Si va a consegnare E non dando sbagliato direzione Perché come potete vedere sono un goglione Qua sta pure la stradina Però sapete che facciamo Andiamo prima qui che è più semplice E poi già là ci arriviamo col voletto Ok siamo arrivati Innanzitutto adesso livelliamo E infatti eccoci qui al 49 E possiamo già cambiare territorio come potete vedere Se ringorgia anzi prendiamo già questa Così magari nel prossimo video Ci spostiamo Siamo arrivati in una qualche tipo di patria di goblin Al che tutto tecnologico e roba simile Ragazzi ma quanto cazzo sono stupido Sono uscito dall'istance e non sono rientrato Non ho consigliato tutte le quest Sono imbecile Speriamo di rivoccarla Amare come istance porca troia Ragazzi allora per questo video Io vi saluto qua come avete potuto vedere Abbiamo un po' immaginato Badlands E siamo arrivati al 49 Il livello giusto per cambiare già territorio purtroppo Quindi non possiamo troppo esplorare questo Ma nel prossimo video ci sposteremo direttamente Quindi mi raccomando Continuate a seguire questa serie Che come sto vedendo Mi piace tantissimo Mi piace anche a me Ci vediamo al prossimo video come sempre Ciao a tutti ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti